Torna dal 1 agosto il consueto appuntamento con la mostra dell'artigianato artistico d'Abruzzo a Guardagrele, 49esima edizione in attesa di festeggiare il prossimo anno, il mezzo secolo. E dunque dal 1 al 25 agosto Guardagrele tornerà ad animarsi con gli oltre 100 espositori provenienti da tutta la regione per dare lustra e visibilità alle eccellenze dell'artigianato artistico ed anche alle tante novità. Il presidente dell'ente mostra Gianfranco Marsibiglio. Quest'anno la mostra si presenta più bella di sempre, più ricca come numero di partecipanti, come livello delle opere che gli artigiani, dico sempre e amo dire, che ci mettono il cuore e quindi sarà una vetrina in cui porteranno tutte le nuove creazioni dell'artigianato abruzzese che va implementato per portare ricchezza nel nostro territorio e per portare lavoro anche alle nuove generazioni. Quindi l'invito ad essere presenti a Guardagrele dal 1 al 25 agosto, gli orari dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23 e la cerimonia di inaugurazione il 31 luglio alle 18 in cui avremo anche il piacere e l'onore di avere il presidente della regione Abruzzo, il dottor Marsiglio, che verrà a tagliare il nastro di questa edizione che si avvicina dopo i 50 anni di questa storica manifestazione abruzzese. Presenta alla conferenza stampa di presentazione anche l'assessore regionale Mauro Febo che ha confermato l'alta considerazione dell'ente nei confronti di uno degli eventi più identitari di Abruzzo confermando la disponibilità a rafforzare il proprio sostegno in vista dell'importante ricorrenza del prossimo anno. Il sindaco di Guardagrele, Simone Dal Pozzo, invece sottolinea come la città tutta attenda per un anno intero a questo evento. C'è una squadra che funziona, che ha la capacità anche di rinnovarsi e di rigenerarsi ogni volta per offrire anche delle sorprese perché parlare di artigianato artistico, soprattutto in questa edizione, significa avere intercettato per poter offrire al pubblico delle novità, quindi una continuità nella tradizione dell'artigianato artistico nella quale si inseriscono elementi di innovazione che sono sicuramente interessanti.